ciao a tutti e bentornati sul mio canale ovviamente dopo aver registrato tutto il video mi sono resa conto che l'audio non andava quindi niente sono qua che vi faccio il doppiaggio di questo video allora vi ho già fatto vedere tutta questa collezione su instagram però in tante mi avete pregato di fare un video anche su youtube nonostante abbia preso fondamentalmente solamente questi colori delle nuove uscite su passione unghie e quindi sono qua a mostrarvi l'autumn vibes allora è un kit di sei colori come ogni kit che fa passione unghie è un kit super attunnale e sono davvero bellissimi ragazzi veramente bellissimi oltre a questi qui ho preso anche due foil due trasferelli che vengono in mente trasferelli che dopo vi mostrerò allora il pack esterno è davvero molto molto carino e adesso vi faccio vedere i colori all'interno eccoli qua allora partono dall sp 279 fino ad arrivare all sp 283 vi ripeterò per tutto il video che questa collezione è fantastica eccoli qua ve le mostro in versione lucida le avete già un po opacizzati perché sono i tocchi chiali con le mani piani di già e quant'altro si stanno opacizzando perché le sto usando veramente tanto da quando mi sono arrivati praticamente sto facendo solo loro i colori sono davvero molto belli si stendono da dio tutti e cinque anche quelli chiari non fanno stiature sono super coprenti già la prima passata sono veramente veramente stupendi appunto come vedete sono dei colori molto desaturati per chi fosse interessato sono a livello aromocromatico sono adatti alla stagione estate io per esempio sono l'estate soft quindi per me sono perfetti e poi richiamano veramente l'autunno questi qua sono in versione opaca e anche in versione opaca veramente hanno il suo perché sono davvero molto carini super abbinabili tra loro veramente questa collezione mi sta piacendo un sacco una cosa che vi consiglio mi raccomando stendeteli strati sottili specialmente il verde che tende ad essere leggermente più liquidino rispetto agli altri ad accumularsi un pochino ai lati quindi mi raccomando stendete le sottili perché se no non asciugano bene adesso ve le faccio vedere passiamo e partiamo dall sp 279 che è questo beige molto chiaro molto carino molto delicato ripeto anche questo colore pur essendo chiaro vi assicuro che con un con un'unica passata già risulta molto molto coprente poi passiamo all sp 280 che ha questo lilla malva molto chiaro anche questo molto desaturato carinissimo anche lui mi piace molto anche questo risulta delicato sulle unghie super coprente con un'unica passata si stende da di anche questo insomma come tutti i colori è top anche lui veramente molto molto carino anche questo colore andiamo con l'SP281 e questo fra tutti è il mio preferito è il mio preferito sia in stesura non che gli altri si stendino male capiamoci bene però questo ragazze è perfetto perfetto sia come texture come stesura bellissimo molto bello ed è questo malva anche questo molto soft ma ha un'eleganza sulle unghie pazzesca pazzesca che tra l'altro è molto carino e abbinabile al 280 bello questo invece è il 282 ed è un azzurro un color carta da zucchero anche questo molto bello abbinato sia al 279 che al 280 ma anche sia col verde che con quel malvino molto chiaro diciamo che tra loro essendo avendo una stessa intensità si abbinano perfettamente tra di loro e questo qui è davvero davvero carino allora i colori che vedete in video si avvicinano molto sono molto veritieri con la realtà appunto qua facevo vedere che sono abbinabili insieme si possono fare vari abbinamenti e infine abbiamo il verde che è l'SP283 e questo qua fra tutti si stende da dio anche questo perché è super coprente anche questo però rispetto agli altri è leggermente più liquidino almeno io ho notato questa cosa e se non lo stendete sottile cosa che io non ho fatto sulle tipe perché di solito abbondo anche per fare solo una passata tende un pochino a colare sui laterali e ad accumularsi ad accumularsi appunto il colore quindi poi ovviamente non asciuga vi fa un po' di di bolla e non va bene quindi mi raccomando specialmente lui che tende ad essere più liquido stendetelo più sottile assolutamente allora ve ne voglio far vedere un paio e direi di far vedere quelli più chiari che sono quelli più rugnosi da stendere di solito qua è l'SP273 e come vedete già la prima passata ragazzi è super coprente ora sotto qua abbiamo una tipe bianca ma vi assicuro che anche sulla tip trasparente ha la stessa identica resa poi si autolivellano quindi come vi dicevano non lasciano striature ed è perfetto veramente perfetto adesso vi stendo anche l'H l'SP280 e anche questo come vedete fate conto che sotto come avete visto c'era una reglina di rosso rimasto l'ha completamente coperto con una passata cioè ammirate la stesura com'è super semplice e super facile su Instagram mi avete chiesto se ci sono delle somiglianze a colori che ci sono già a catalogo tra quelli che ho io l'SP283 che è il nuovo uscito assomiglia si avvicina al C99 sempre di passione unghie ma come vedete già anche dalla videocamera la differenza si vede assolutamente che si vede uno è un pochino più caldo l'altro un pochino più freddo insomma si differenziano un pochino di tonalità però sono cioè si avvicinano sono molto simili dal vivo si vede ancora meglio che c'è poca differenza quindi vedete voi anche in questo caso se decidere se decide di prendere anche questo oppure no a me francamente mi piace più l'SP283 se dovessi scegliere tra i due lo trovo più carino non lo so più adatto a questa stagione che appunto è l'autunno poi abbiamo l'SP273 che si avvicina molto all'H271 di Lafam si avvicina molto ma anche qua non sono uguali qua in video possiamo notarlo vediamo che l'H271 è un pochino più rosatino rispetto all'SP273 che tende ad essere proprio più sul beige e qua si vede insomma anche qua si vede una piccola differenza ovviamente la cliente non è che sta a guardare nel dettaglio e anche qua insomma vedete voi se prenderlo oppure no ma io lo trovo carino le trovo carini entrambi quindi questi sono i colori appunto che fanno parte del kit ripeto mi stanno facendo impazzire sono veramente veramente belli oltre al kit come vi dicevo all'inizio del video ho preso anche questi foil e ho preso che appunto vanno applicati insieme al gel foil ho preso questa fantasia che sono queste foglie super calde super autunnali vi faccio vedere adesso anche il codicino sul retro e poi ho preso questa fantasia anche qua sempre fogliettini super autunnali è molto carina e il codice è lui ve le faccio vedere anche estese eccole qua su uno ho messo l'SP273 mentre sull'altro l'SP284 mi sembra insomma il verde e sono molto carini e anche questi sono davvero molto semplici e facili da applicare tra l'altro nel canale trovate anche un video dedicato a queste decorazioni allora per quanto riguarda la versione matte su instagram avete bombardato di domande per sapere che top uso ragazze sempre al solito ve lo ripeto fino alla nausea è il top il matte top no wipe di la femme io uso sempre e solo lui questo matte come potete notare come avete notato ha proprio un effetto super vellutato ovviamente come tutti i matte che hanno questo tipo di effetto tende ad essere più delicato quindi mi raccomando avvertite la cliente che devono fare molta attenzione con questi matte perché tendono ovviamente a sporcarsi ma a me mi fa impazzire lo uso da anni da quando è uscito praticamente e non mi dà assolutamente problemi le clienti mi ritornano con le unghie intatte ovviamente con il passare dei giorni questo effetto velluto non è che dura per 3-4 settimane dopo i primi giorni tende ovviamente anche lui a diventare più satinato ma comunque sia l'effetto è molto è sempre molto bello quindi io questo matte lo preferisco a tanti altri ecco e anche le mie clienti insomma ci si trovano bene e per chi vuole il matte sa che deve fare attenzione e via non mi dà assolutamente problemi quindi questo ve lo consiglio tra l'altro se non lo trovate in offerta potete usare il mio codice scontochieppamela12 non è affiliato non ci guadagno niente semplicemente uno sconticino per voi ci tengo sempre a ripetere questa cosa e niente quindi io penso di avervi detto tutto vi consiglio questa collezione perché è davvero molto molto bella tra l'altro c'erano anche dei glitter che pensavo di aver preso e invece a quanto pare non li ho presi ma ve le farò vedere presto perché le acquisterò vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video grazie